Senza aver mai fatto lo strego di concorso muove le peritate deve tenere a noi ACHE! ACHE! Adesso facciamo tutto il consiglio che non voglio prendere pensare a risclusire perché siamo tutti 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 i suoi tutta l'egno che le ho sempre prese senza vai darle io guarda questo detto è finto quello buono ma l'hanno spaccato gli amici sui nel 1975 e anche in piazza nel 1976 io c'ho il tifero no, è vero no, è vero no, è vero no, è vero stai messi in ospedale come è sapendo ma è un giorno nel 1976 e io nel 1975 e mi sono fatta la vendicina no no è vero è vero a me, dite mi sarei fregna avete qualcosa da bene? un giusto di frutta non è vero